Allora, io ringrazio Piero e spero che il mio contributo a cui ho un po' lavorato e che rappresenta un po' quello che facciamo per la ricerca in questo campo sia utile. Diciamo che io mi occupo di elaborazione del linguaggio naturale e di apprendimento automatico per questo ed è ovvio che questo secondo noi ha un certo ruolo che cercherò di trasferirvi per cui cominciamo a pensare all'impatto con il problema, diciamo il focus della giornata. Secondo noi il linguaggio ha a che fare con questi problemi perché una delle cause della proliferazione di documentazione irrilevante ma anche di comunicazione irrilevante è la nostra scarsa capacità di gestione dell'informazione che riguarda la nostra capacità di interagire con gli altri a fronte di un documentazione che esiste ma non è facilmente reperibile e viceversa la nostra scarsa capacità di produrre documentazione in modo sano, cioè in modo virtuoso. Prima Piero lo ha detto, allora io alla fine chiuderò con dei che stati che dicono semplicemente cosa si sta facendo e cosa si può fare in questo ambito mettendo insieme l'idea dei dati disponibili e quindi dell'apprendimento e le capacità linguistiche dei sistemi software. È un po' problematico però inserito cominciamo a dire che banalmente oggi possiamo dire che l'interconnettività, la pervasività degli strumenti e delle tecnologie in qualche modo ha cambiato le prassi di lavoro e di comunicazione e oggi abbiamo per una serie di cause due dimensioni interessanti. Uno è quello della capacità predittiva perché esiste una serie di informazioni che sono in tempo reale e messe a disposizione per un processo decisionale. Chiunque sta discutendo con un amico della musica della sua gioventù dice ma quando è uscito quell'album aspetta che io adesso verifico. Quindi abbiamo capacità di accedere Wikipedia o altro a informazioni utili più o meno dall'intrattenimento al lavoro ma abbiamo anche la possibilità di mettere insieme queste informazioni un po' sinteticamente per fare predizioni. L'esempio preciso del robot che guarda i dati della sensoristica della salute di un anziano per dire sta succedendo qualcosa. La seconda cosa è che questa predittività è veramente a tanti livelli diversi, cioè multidimensionale quindi c'è un'integrazione di servizi impressionante. Quello che dobbiamo convincerci che sta accadendo e vorrei comunicare è che questo ecosistema nuovo è un ecosistema di informazioni perché sono conoscenze in gioco ma ci sono anche le persone e le cose. Quindi ci sono la connessione, le reti sociali e i mondi organizzativi diversi che sono tutti insieme e compartecipano. Ora volevo semplicemente dire che in questo ecosistema noi abbiamo continuato a dire che parliamo di documentazione, di mail, quindi c'è una distinzione tra chi la scrive, chi la legge e la mail. In realtà ho usato questo film perché è interessante anche se poi l'esito è un po' lontano dall'AI, è purtroppo letterario. Però l'idea è che in questo film si suggerisce, spero che funzioni bene l'animazione, penso di sì, in qualche modo si suggerisce che c'è una compenetrazione attraverso l'idea di una mappatura cerebrale che viene distribuita su una serie di macchine tra l'individuo e l'ecosistema in cui vive, perché la sensoristica globale diventa parte del controllo del cervello al punto che il protagonista vive disperso nelle macchine a una presenza multipla. Ed è interessante perché noi da utenti delle tecnologie informatiche, e qui uso un altro film che è interessante, perché squarcia una barriera tradizionale tra l'opera e lo spettatore, quindi usiamo solo la prima parte della rosa purpura del Cairo. L'idea è che noi per ora siamo stati come Mia Farrow, spettatori dei servizi, noi li guardiamo, li interpretiamo, ne usiamo i dati e quindi nell'idea transazionale, quella anche delle basi dati, in fondo c'è la base dati che sta lì e noi ce ne serviamo. In realtà, adesso non so chi fa da base dati e chi fa da utente, perché i due alla fine finiscono per essere in qualche modo a fianco, cioè dobbiamo essere consci del fatto che noi siamo parte dell'ecosistema, insieme ai nostri dati e insieme ai dati che prima consideravamo degli estranei. Quindi c'è un cortocircuito tra il dato dell'organizzazione e il dato dell'individuo, la conoscenza dell'individuo, il valore aggiunto dell'organizzazione e le prassi che i servizi che abbiamo a disposizione e noi che li usiamo cominciano a scambiare. Noi siamo in un'era della convivenza e dobbiamo essere consapevoli di questo, perché secondo me, io sarei ancora più radicale di quello che diceva Piero, cioè noi non dobbiamo pianificare dei cambiamenti di comportamento, perché così semanticamente o se vogliamo usiamo i servizi in una maniera virtuosa perché abbiamo esplicitato la loro semantica. In realtà noi stiamo dentro a questi meccanismi e produciamo continuamente informazioni utili, la cui semantica è pregnante. Quindi noi dobbiamo vivere in un ecosistema con delle nuove responsabilità, in quanto noi siamo utenti e quindi individui che usano le tecnologie, quindi per esempio lo spamming fatto a centinaia di persone nello stesso documento Excel è una follia che è secondo me nella sfera delle responsabilità dell'individuo. Però sicuramente noi abbiamo responsabilità sociali, per esempio la netiquette di pubblicare solo ciò che è pubblicabile, mentre noi sappiamo benissimo che nelle social network questi meccanismi sono spesso violati. E queste sono le cose che dobbiamo imparare come autoregolamentazione. Poi in ogni caso queste dinamiche evolvono nel tempo, quindi noi non possiamo sottrarci al fatto che c'è un meccanismo molto naturale che è evolutivo. Cioè noi adesso parliamo, diciamo per esempio prima Amedeo diceva, io quando ho visto per la prima volta quell'oggetto non lo avevo compreso e quindi ho pensato che fosse una tipica americanata, cioè un overselling dell'AI o della robotica. Cioè questo è uno slogan. In realtà poi vediamo che alcune delle cose che funzionano, si fa molto overselling in tutti i campi, non solo nell'industria ma anche all'università. Quindi siamo tutti un po' guardinghi, però in realtà sappiamo che sopravvivono le cose che in qualche modo sono compatibili col sistema più di altre. Diciamo non sono sempre virtuose, abbiamo visto che i linguaggi di programmazione nascevano e si spegnevano, erano bellissimi dal punto di vista scientifico, però erano incompatibili col sistema commerciale per esempio. Allora noi abbiamo, qual è l'adattatività che ci aspettiamo, che noi come utenti dobbiamo esibire? Sicuramente quello per cui noi sappiamo che in certi contesti possiamo usare o no la tecnologia, già ci stiamo adattando e cambiamo nei nostri prassi. Poi ci sono l'adattatività alle dinamiche conoscitive, cioè io devo capire come imparare in questo nuovo ecosistema e che cosa c'è da imparare, per esempio c'è un problema di overload che stiamo imparando a gestire, la nostra mail ad esempio, ma c'è anche un problema di sapere quale paper scientifico leggere perché generalmente ce ne arrivano troppi e molti, veramente molti, sono non utilissimi. Poi ci sono un'adattatività perché dobbiamo imparare a capire effettivamente noi come ci poniamo, cioè la nostra interiore capacità di sintetizzare conoscenza che cambia, quindi le dinamiche conoscitive sono collettive, le dinamiche cognitive sono anche interiori, quindi preferenze per esempio, preferenze e opinioni e noi che non lo siamo dovremmo adattarci a dei cambiamenti rapidi perché in realtà queste robe che succedono richiedono una risposta veloce. Io penso che questa cultura non ci sia e soprattutto l'enfasi positivistica sui dati la mette in difficoltà. Allora sottolineo qui il fatto che in questi scenari c'è un aliason, scusatemi lo dico sempre, sono un po' noioso, magari qualcuno l'ha già vista sta slide, però l'idea è che in questa convivenza noi e i servizi che usiamo, i dati, le conoscenze e le prassi hanno un aliason, perché prima l'idea che ci ha mostrato per esempio Amedeo è che lì si misurava il battito cardiaco, quindi da quel punto di vista le righe di quella tabella non erano in qualche modo senza semantica, ma noi l'abbiamo capita perché c'era scritta, perché c'era scritta, perché c'era un nome, un cognome che noi poi possiamo concettualizzare perché facciamo un'adesione collettiva a un'idea, però quella è roba linguistica, cioè quello che chiameremmo dati non strutturati. Purtroppo sta roba funziona, funziona molto bene, da sempre, è un pezzo dell'evoluzione. Io rivendico il fatto che quando un informatico studia il planning, c'ha un problema completamente nuovo, perché è il planning di un sistema artificiale versus un planning naturale che avviene secondo meccanismi diversi, quando io, diciamo noi, quelli che fanno language processing, si occupano di linguaggio, hanno un vantaggio, che quella roba là è oggettivamente preesistente rispetto alla nostra analisi, è stata messa appunto attraverso un meccanismo evolutivo e c'ha delle leggi interne che comunque vanno rispettate, perché sono state nell'ambito dell'evoluzione della comunicazione tra gli umani messe a punto perché ci hanno dei vantaggi, sono obbedienti a una certa evoluzione. Purtroppo per i calcolatori l'elaborazione del linguaggio è una vera grana, come dire, una... e quindi sicuramente per tre motivi fondamentali, il fatto che il linguaggio non è mai, diciamo così, chiarissimo, perché lascia una sfera di indeterminazione che chiamiamo ambiguità, per la quale ci sono più interpretazioni per lo stesso oggetto, due perché quando noi comunichiamo in realtà non siamo mai completamente chiari, cioè il linguaggio in fondo rimanda, rimanda a qualcosa, che è utile perché così la esperienza determina la comprensione, però per una macchina questo rimando è fondamentalmente problematico, tre perché in realtà diciamo avviene in condizioni rumorose, spesso il segnale non è chiaro, spesso ci sono delle ellissi che vengono prodotte da chi parla o dai messi di trasmissione. Allora sappiate che proprio per questo motivo, cioè queste sorgenti di complessità hanno creato nell'ambito delle AI, delle aborzioni del linguaggio, una tendenza a enfatizzare il ruolo dell'apprendimento nelle macchine, cioè è una delle aree in cui l'adattatività è stata particolarmente spinta. Quindi io qui metterei diciamo al centro, poi adesso prendiamo un'altra linea, però vorrei dirvi che secondo me nell'ambito di questo ecosistema che dobbiamo immaginare di voler affrontare non è chiaro quale sarà il suo esito, perché abbiamo da una parte il caos più totale, dall'altro un ordine armonico che si mette a punto attraverso meccanismi evolutivi che sono virtuosi, ma diciamo che non è che sappiamo che eviteremo la catastrofe di un mondo che si riempie di anidite carbonica senza nemmeno avere il compenso di un'informazione affidabile, cioè l'informazione sarà sempre meno affidabile e il CO2 sarà sempre più presente. Però almeno ci sono queste cose, cioè l'autoregolamentazione, la capacità degli stakeholder di questo ecosistema di adattarsi reciprocamente, quindi sto dicendo che gli utenti si adattano ai sistemi, questo è già vero, perché noi stiamo imparando a fare click, i bambini battono sulle tastiere con una velocità maggiore dei loro genitori, eccetera, i sistemi verso i sistemi, cioè l'interoperabilità tra i sistemi, stiamo imparando a spingerla sempre di più, ma è ancora molto debole, e infine i sistemi verso gli utenti, cioè quella roba che l'AI conosce bene, l'interfaccia uomo-macchina, è che è il fatto di produrre dei servizi in armonia con le prassi, le aspettative, le tendenze degli utenti. Poi l'interoperabilità è un pezzo di questa storia, però l'interoperabilità senza la capacità di adattamento sarà difficile da ottenere, per esempio i meccanismi del semantic web, abbiamo detto sempre, Tim Berners-Lee ha dato una visione, pensare che esista prima lo standard, prima della produzione dei dati è un po' utopistico, pensare che tutti si adeguino a standard universali, cioè che tutti trovano l'agreement, noi italiani siamo particolarmente privilegiati nel sapere che è complicato, e quindi l'interoperabilità e l'adattatività saranno i due meccanismi evolutivi che secondo me saranno utili. Sappiamo che i servizi non sono adattativi, cioè che oggi quando si parla di customizzazione di un servizio al più ci sta un qualche user profile che è una collezione statica di metadati o di parole. Allora, apprendere dai dati in qualche modo è molto importante ed è un tema più o meno sfiorato, è centrale nell'architettura della robotica. Vediamo un attimo che si intende quali sono i ruoli, almeno in questo ambito. Tecnicamente, diciamo, matematicamente apprendere dai dati può essere visto come il problema di prendere una collezione di osservazioni che sono rappresentabili in un qualche dominio numerico e imparare la funzione che su quel dominio numerico è stata usata o per generarli, quindi imparo a capire perché sono fatti così, o che sono utili a spiegarne delle associazioni. Quindi immaginate di avere le osservazioni del tipo la somma di questi due numeri, due e due, è quattro. La somma di questi due numeri, due e tre, è cinque e io voglio imparare l'operazione di somma. Cioè vorrei che il sistema adatto in x qualsiasi, in x non qualsiasi, sia in grado di calcolare lo z che è la somma dei due. Questo apprendere funzioni è tutto perché quando decide il robot di dare un alert calcola una funzione. Quando noi scaliamo dal conto in banca per un prelievo un valore stiamo calcolando una funzione e i programmi in fondo matematicamente sono delle funzioni. Quindi se noi ci fermiamo a guardare tutto ciò possiamo immaginare che Transcendence, Johnny Depp, quello là, guarda tutti i dati e continua a calcolare le funzioni ottime rispetto all'andamento della realtà e quindi queste sono utili per fare predizioni. Ci sono diversi modi da apprendere, ovviamente il tutorial dovrebbe andare avanti per molto tempo, non abbiamo tempo qua di trovarlo, però alcune tendenze sono interessanti perché perché vedete un tempo si pensava, o meglio si era convinti che l'apprendimento fosse l'induzione di una funzione complessa da dati che possono essere strutturati, cioè numerici o non strutturati, quindi anche da dati discreti, simbolici, parole eccetera. In realtà oggi si sta spostando l'idea con dei paradigmi, il deep learning è uno di questi ma che sono definibili come paradigmi semi-supervised, che ha una buona volume di dati che regolarmente esprimono quelle funzioni di qui sopra, si possa dare una risposta non solo calcolando la funzione che li spiega, ma anche riorganizzandoli per un formato in cui ci arrivano che non va bene. quindi creare dal disordine con cui si presentano i dati un certo ordine e che significa in termini di AI imparare le rappresentazioni corrette dei dati. Nel deep learning una delle idee è proprio quella di dire io faccio uso di quello che conosco rispetto a volumi molto grandi e definisco un input alla mia funzione di apprendimento che è già l'esito della macchina che è in grado di riassumere le configurazioni dei dati come input all'apprendimento della funzione. Allora questo è stato particolarmente utile nell'ambito del language processing, per questo lo cito, ed è diciamo abbastanza interessante, poi vedremo come viene usato. L'idea nel deep learning che riprende le idee delle reti neurali applicate all'apprendimento, all'AI, quindi l'idea di paradigmi che deenfatizzano la rappresentazione e enfatizzano invece il momento performativo, cioè quello in cui la gente prende la decisione mettendo in mezzo la capacità auto-organizzativa della macchina di imparare dal passato, cioè decisioni virtuose già prese in presenza di certi casi da sola, mediante una sorta di auto-organizzazione. Allora, negli anni, fine anni 50, anni 60, nell'ambito della cibernetica questa cosa ha avuto un grande impatto, però a quell'epoca alcuni limiti matematici di questi formalismi ne avevano decretato nell'ambito dell'AI successiva un po' la scomparsa. Allora, gli scenari che diceva Medea sono veri, cioè abbiamo molti dati, abbiamo poche soluzioni e troppi problemi, dai, con le reti neurali, perché senza rappresentazioni, senza capirli bene questi dati, forse le reti ci riescono. Però c'è pure una certa matematica che ci aiuta e quindi questo è un matrimonio interessante. Allora, una pezza della matematica è che invece di evolvere con rappresentazioni complesse della realtà, come l'AI spesso ha postulato, complicate che si adattano ai temi da affrontare, ma che vengono progettate dagli ingegneri del software. Questi signori stanno dicendo cerchiamo di mantenere le rappresentazioni molto di livello, molto elementare e invece complichiamo l'architettura neurale aggiungendo un numero molto grande di strati intermedi la cui complessità, quindi il numero di neuroni che aggiungiamo e la loro numerosità, quindi la complessità dell'architettura ci aiuterà anche a far sì che funzioni molto complesse, cioè decisioni molto complesse, possano essere masticate all'interno dell'architettura, disperdere nei strati intermedi le regolarità necessarie affinché nello strato di output io possa decidere di tutte le configurazioni di cui ho bisogno. Quindi cosa succede? che io aumento gli strati e quindi aumento la distanza tra questi due, input e output, e uso una funzione di addestramento che man mano che aumentano gli strati, io dovrò ripetere moltissime volte perché ho tanti neuroni con tanti strati, quindi devo aggiustare un numero di pesi che cresce combinatorialmente, però è molto semplice ma molto robusta, che è tendenzialmente delle versioni diversificate di quell'apprendimento che tenta di ottimizzare una funzione facendo delle perturbazioni locali e guardando in quale direzione della perturbazione migliora la prestazione, che si chiamano gradient descent, cioè metodi in cui io la funzione di ottimizzazione la vedo come un metodo in cui io minimizzo il rischio di sbagliare e qui me ne vado giù per la scarpata di questa funzione di minimizzazione lungo la direzione per la quale mi sfracellerò più velocemente possibile perché il guadagno nella diminuzione del rischio in quell'ambito sembra essere maggiore. Questo è un po' l'idea e ovviamente che cosa succede? Che nelle varie porzioni sono state sperimentate delle funzioni da ottimizzare un po' specifiche per i task quindi l'idea è che ho un'architettura, un framework molto generale e poi lo adatto facilmente con piccole modifiche locali. Queste reti apprendono generalmente in ambito supervised ma possono anche essere usate attraverso meccanismi iterativi che le portano a convergenza con metodi per esempio che guardano alla minimizzazione dell'entropia nella descrizione dei dati anche in assenza di dati etichettati. In particolare quello che vedete qua, quello che si chiama look up table in questi lavori è essenzialmente la possibilità di usare questa architettura per alimentarla con dei vettori questi sì appresi certamente da dati non etichettati. Quindi immaginate che queste sono delle reti applicate a delle frasi in cui l'ingresso per ogni parola è un vettore, questo vettore è stato sviluppato attraverso un'analisi dell'uso della parola in corpus sconfinati, si parla di centinaia di milioni di parole che vengono scaricati dal web o da collezioni specifiche a un dominio e che danno luogo a rappresentazioni vettoriali delle singole parole, queste vengono in qualche modo ricombinate tra loro, quindi le strutture di concorrenza vengono qua dentro ricombinate in regole che danno luogo ad alberi delle decisioni, cioè if then else branching rules implicite qua dentro in grado di attivare a fronte di certe configurazioni una decisione piuttosto che l'altra. Ora ho brutalizzato, adesso Fabrizio mi dice, ma che dici? Ho brutalizzato una materia molto complessa per cercare di capire che in realtà queste cose qua sono degli oggetti un po' black box in cui però spariamo dati che riusciamo a produrre anche scioccamente in modo eccessivo e questi che fanno? Imparano delle rappresentazioni, due, imparano a scremare le informazioni irrilevanti, quindi apprendono a buttare via le parole che non servono, tre, hanno una prestazione finale che nel tempo al migliorare delle condizioni d'uso tende a migliorare, quindi se gli utenti gli dicono hai sbagliato, queste hanno dei meccanismi di retorazione per cui possono essere aggiustate nel tempo, quindi dal punto di vista evolutivo questi sono paradigmi interessanti. Una delle cose interessanti è che possono essere fatte evolvere per avere una struttura di architettura comune e avere task diversi, quindi avere una sorta di stratificazione, per questo loro citano una torre di babele che mette ordine per certi livelli e poi ne fa uso per task diversi, qui potrete immaginare che un task sia l'etichettatura grammaticale delle singole parole di una frase e qua per esempio il tagging della semantica di certi nomi, come la popolazione nel tuo caso, cioè la fornire struttura semantica ai testi. Io potete immaginare che su un'immagine, se non si vede bene, una tipica struttura di deep neural network fa sì che l'immagine venga fornita in input a vari processori elementari che si distribuiscono su porzioni diciamo così più o meno elementari e che i diversi strati intermedi in qualche modo tentano di imparare strutture come frammenti di contorni utili, ricombinazioni nell'ambito di nasi e orecchie e gruppi di individui che hanno caratteristiche simili, magari lo stesso individuo o facce della stessa razza. Quindi potete immaginare che dispersa nella black box che è data da tutti questi neuroni ci sia una competenza di livelli crescenti di astrazione e questa roba che siccome è messa a lavorare su volumi crescenti è appealing, perché io sono agnostico rispetto a cosa faccio nella rete, metto una rete con tanti neuroni e faccio finta di non volerne sapere, di rappresentare, immaginare feature. Prendo delle feature elementari come le proprietà di vedere dei pixel accesi o spenti che sono naturali osservazioni che ogni macchina può fare e mi aspetto di prendere decisioni che invece sono ad alto livello. Io vi faccio vedere qua, mi dispiace perché non si vede molto bene, ma una sperimentazione che abbiamo fatto a Tor Vergata su queste forme di embedding neurale, quello che vedete qua è Legge Severino che è l'hashtag collegato a Tweed, dove Legge Severino era una discussione che circa un paio d'anni fa fu fatta proprio riguardo al suo rilievo politico rispetto alla tendenza a assolvere o meno un deputato che voi potete ricordare chi sia. Diciamo che sta tornando di moda, però volevo solo dirvi che questa roba qua, scusatemi ma purtroppo la risoluzione che non è altissima, mette poi crisi, quello che vedete qui ci sono una serie di parole qui, queste sono le parole che sono recuperate da un agente software, lasciamo usare questa parola, da un agente software che ha imparato con un embedding cosa significa Legge Severino senza alcun intervento nostro, collezionando i tweet e guardando il comportamento di questo hashtag nei tweet, nelle discussioni. Quindi potete immaginare che l'hashtag Legge Severino è un insieme di comportamenti linguistici che questo hashtag ha in tutti i twitter che venivano pubblicati e che lo contenevano. E questo hashtag viene in questo momento usato, rappresentato come un vettore in uno spazio a valori reali e viene usato per richiamare una serie di parole che sono le parole che alla distanza in questi spazi ce l'hanno molto piccola con Legge Severino e lasciando fuori le altre. Quello che viene fuori è che le prime dieci parole più vicine sono incompatibilità, scappatoia, reo, penultimatum, contrordine, oltranza, stampella, eleggibilità e incandidabilità. E come vedete quando esistono questi link qua tra incandidabilità, eleggibilità e stampella questa roba qua viene raccolta con un arco perché la similarità tra incandidabilità e eleggibilità in qualche modo sembra più alta di quella che c'è tra incandidabilità e Legge Severino. Voi vedete un grafo che ha due tipologie di nodi, uno è un hashtag e l'altro è un sostantivo. Se noi applichiamo a soli hashtag questa cosa, e cioè sto facendo la query con Legge Severino e sto, questo lo mostriamo, e sto prendendo altri hashtag, gli hashtag sono Cavaliere, Berlusca, Galera, Agibilità, Incandidabilità, In Galera, che condanna processi Mediaset. Non ci sono solo queste idee? No, 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 esatto, questo è per darvi l'idea del fatto che nell'ambito della fruizione di dati così come questo benedetto ecosistema ci porta a fare, noi possiamo chiedere a delle macchine, e in questo caso noi stiamo applicando semplicemente degli embedding lineari, usando dei metodi di geometria molto semplici, in cui facciamo analisi matriciale di questi dati. Quindi noi analizziamo le matrici... come? No, in realtà, allora, no, è vero, è vero, è vero, no, il problema è questo, questo è l'esito. Qui noi abbiamo fatto osservazione di ciò che veniva detto in un periodo di circa 4 mesi di collezione dei tweet nella fase del 2013, tra settembre e novembre circa. E questo bias è un bias della comunità e chiaramente su questo la macchina in qualche modo è totalmente neutra, ma è l'emergere di una semantica che invece è assolutamente polarizzata. La cosa carina è che la dualità si può anche applicare agli utenti. Questi sono gli utenti, adesso legge Severino, ha come utenti un po', adesso ve ne posso leggere alcuni, ma insomma qua trovate tutti i politici che si raggruppano in partiti, eccetera, perché contribuiscono al dibattito o sono citati dal dibattito. E qui ho fatto un'interrogazione, dato un hashtag mi dai gli utenti che sono correlati. E ovviamente l'ultima cosa che possiamo fare è dire quali sono gli hashtag e i sostantivi correlati. E quindi troviamo fuori un mondo in cui le reti sono fatti di due tipologie di nodi, alcuni hashtag che sono appunto ineleggibilità, Galera e Berlusca e tante altre cose come salvacondotto, scappatoi, eccetera. Ora io qui vi sto mostrando 30 parole, ma questo spazio qua ha tutti gli utenti che avevano più di 5 tweet in quel periodo, quindi centinaia e centinaia. poi abbiamo tutte le parole che sono state usate e tutti gli hashtag. Quindi abbiamo vocabolari dell'ordine di 70, 80, 90 mila di queste entrature che sono evocati dalle macchine e che io adesso non vi faccio vedere, ma siccome abbiamo lo stesso strumento, sta su un'altra macchina, che fa per esempio un'analisi nel tempo, cioè posso fare delle fotografie nel tempo, posso vedere gli andamenti e vedere come emergono queste statistiche. Allora il suggerimento nell'ambito del governo di questo sistema è che dai dati si deve trasferire alla conoscenza qualcosa che riguarda certamente l'operazione dei servizi, che devono imparare a far questo, ma dall'altra parte ci sono persone che devono aiutarli. E finché noi non useremo i wiki semantici o ci affideremo in modo un po' più sistematico a quello che leggiamo cercando di lasciarvi traccia, per esempio correggendo. Perché la tendenza nel web 2.0, che è quello partecipativo, è quello di dire I like and I dislike. Non è solo perché il trend è quello di mettersi in vista come i selfie, ma perché le macchine e i servizi hanno bisogno del nostro feedback. Per darvi un'idea, il feedback è che quando scegliamo un link di Google lo stiamo dando al motore di ricerca. E quindi il tema è che noi siamo in grado di apprendere le preferenze di una comunità di utenti o di un utente solo o degli utenti che vivono in una zona. Quando si fa Francesco in Google, a Roma probabilmente viene tutto ottimo. Perché? Perché i log degli utenti che hanno chiesto quel materiale in quell'area che è georeferenziabile a causa del fatto che il dispositivo so da che rete parte, è quello che ha la minima probabilità di rischiare di essere sbagliato. Quindi la funzione di utilità cambia e il motore di ricerca migliora. E l'effetto è che noi non andiamo mai oltre la seconda pagina in Google, ormai da molto tempo. Allora, nella visione integrata io dico e vi suggerisco, magari Amedeo o altre persone che lavorano in AI su altre aree direbbero cose diverse, però che c'è una centralità nell'ambito dell'ecosistema, della nostra capacità, se volete, semantica, ma che ha un'origine strettamente linguistica. Avete visto là? Noi non abbiamo scritto nemmeno una riga di ontologie, però questo emerge e prima o poi lo codifichiamo in un'ontologia certamente perché ci serve per prendere decisioni, però emerge attraverso un'analisi puramente linguistica, cioè agnostica rispetto per esempio agli usi, al dominio, alle primitive concettuali. Una cosa che non è ancora stata assiomatizzata, io non ne posso parlare. Sì, ne posso parlare su base linguistica, poi quando mi metto d'accordo passo a un'assiomatizzazione e mi do un paradigma interno all'organizzazione o di comunità, ma dopo però, in realtà la prima forma di conoscenza che emerge è sempre in forma linguistica. A questo punto io voglio gestire in modo integrato tutto quello che nell'ecosistema, ora in questa slide io la scrissi così perché Social Web Analytics era quello che mi interessava nell'ambito dell'opinion mining su Twitter, ma in realtà questa roba può essere l'analytics legata a una company, una community molto ristretta o a una connessione di comunità. E a questo punto io posso supportare un approccio semantico perché ho fatto due cose. Uno, ho fatto una roba che è locale ai singoli punti perché su base linguistica riesco a capirli. Due, li aggrego su base sociale e quindi collettiva, globale, costruisco dei pezzi di conoscenza che mi fanno fare delle cose specifiche di analytics, cioè per esempio la market analysis e brand reputation, che sono due cose che non fanno i robot ancora, o meglio lo fanno dei robot ma sono software e quindi noi non li impersonifichiamo con dei robot ma che sono quelli che in qualche modo danno input a parecchie marketing offices. Ovviamente NLP dalle fonti aperte è una follia, no? Avete mai provato a leggere un tweet? Non si capisce niente, quindi qui c'è proprio una tensione tra quanta teoria ho riguardo al linguaggio italiano e quanta sporcizia ho dentro i dati linguistici, quindi di nuovo mi serve del machine learning per capire che sto dicendo quando parlo così. Non è vero che esiste un processore della lingua italiana, questo compiero ne sappiamo bene, ma quando un processore viene usato probabilmente deve essere calato nel gergo dell'organizzazione e qui serve il machine learning. Tant'è vero che noi parliamo e quei progetti là erano ispirati da queste idee di learning to read e questo abilita il machine reading e questa roba qui è circolare. Io learning to read perché? Perché accendendo in tempo reale, avete visto Twitter, capisco che diavolo significa elegibilità o legge Severino. Capire significa avere in tempo reale la capacità di apprendere qualcosa per leggere, per leggere meglio. Ogni volta che ritroverò la legge Severino non sarà quella stringa là, ma sarà l'unione delle competenze che con le altre parole io sarò in grado di affidargli. Quindi potete immaginare quanto meglio si fa della search, perché io invece di cercare legge Severino come stringa di sequenze di byte posso usare una tecnica che dice se lo trovi bene, ma se trovi tutti quei termini dentro un documento sappi che questo lo puoi ricondurre perché quell'associazione, non sono sicuro, però dagli un'occhiata perché ti serve. Quindi immaginate ecologicamente nel sistema delle mail quanto questo potrebbe essere utile per eliminare i duplicati per valutare la rilevanza di una mail, la sua novità, ecc. E' chiaro che questa roba qua si fa già adesso, c'è il fact checking, però immaginate che macchine che usano deep learning o qualcosa di simile che fanno questo sempre meglio con un'accuracy che è sempre più vicina a quello dell'esperto o addirittura possono diventare i personal assistant dell'esperto, perché anche nella banca succede che se io sono un analista non voglio confondere la mia competenza con quella del mio collega, perché lui è scarso e io sono bravissimo. Quindi il software deve imparare o a interpolare i due a nome e per conto dell'organizzazione, oppure ad esprimerne localmente al loro ambito di applicazione e di decisione le diversità in modo appropriato, cioè avrò l'agente cesta che fa bene il planning e capisce meno di NLP e dice se devo esprimermi chiedo all'agente Basili e ci sarà l'agente Basili che fa language processing, va bene, è dalla diversità che si arricchirà proprio quell'ecosistema di prima. Ma se noi non ci abituiamo a pensare in questo modo e pensiamo ancora al software transazionale, cioè foglie Excel, dove io cerco il pattern matching con la mia prassi, se volete, un po' riduttiva, che è quella lavoratività che non è un artigianato alto, ma è la routine, allora noi non possiamo vivere in quell'ecosistema e probabilmente saremmo condannati a uscire pure dal mondo del lavoro. In questo senso l'evoluzione spinge. Per darvi un'idea di come si usano queste cose qua, vi parlo facendo advertising, ho 5 minuti e poi mi mandi via. Allora, per dirvi a che cosa applichiamo queste cose, ci sono tre piccoli use case, il primo è l'analisi del sentiment in tweet, cioè la sfida è prendere una piccola stringa, sono 140 caratteri e sono tante però, che ha un ruolo molto alto perché ci si fa giornalismo e politica ad alto livello e anche comunicazione seria, ma ci si fa anche molto gossip, quindi sono fenomeni interessanti perché se vuoi studiare la massa e le sue trend ti interessa, se vuoi studiare l'andamento di una elezione politica. Allora l'idea è è in qualche modo un broadcasting universale, io mando il mio messaggio sperando di avere il maggior numero di follower che ascoltano il mio messaggio e ci sono delle cose del tipo, come si chiama, gradella come si dice in italiano? Il carattere griglia e seguito da una parola costituisce la nozione di hashtag, quindi io se voglio essere trovato ci metterò hashtag Berlusca e tutti quelli che stanno seguendo Berlusca gli sarà filtrata questa informazione, quindi c'è un tentativo di farsi ascoltare dai follower e da coloro che seguono un tema usando certe parole, però per il resto io posso dire quello che voglio e pochi caratteri e non ho indirizzari, cioè non ho omittenti, non sto mandando, non è punto o punto in qualche modo. Quello che succede è che devo decidere questo quando io vedo saltare fuori un messaggio, spesso non si capiscono. In realtà abbiamo lavorato a un meccanismo di contestualizzazione in cui io cerco di mettere, vedete, attraverso at Serge Gray, quello che Serge Gray ha detto prima ed eventualmente quello che colui a cui ha detto qualcosa, ha detto prima di lui, creando dei discorsi, creando cioè delle discussion list, ricreando delle discussion list e questo abbiamo dimostrato che un modello marcoviano che fa la classificazione di sequenze ci può arrivare a dire che questo è negativo perché lo era quello precedente e questo è in agreement con lui. Quindi l'idea è di usare quei vettori che avete visto di parole per etichettare questi. Noi abbiamo organizzato quest'anno come AI, abbiamo ospitato Click che è una conferenza che è ospitata a sua volta e valita e abbiamo in qualche modo costruito un task di benchmarking ispirati dalle prassi di DARPA che non è che dà i soldi solo, ma mette a disposizione dei dati su cui fa competere le università e quindi a differenza delle aziende, solo le università italiane che partecipano, le aziende non riusciamo mai a convincere di andare con dei prodotti in quest'area eppure li vendono. Queste sono le reti di classificatori, per darvi un'idea io decido se il Twitter è soggettivo o no, perché alcuni Twitter annunciano dei fatti, quindi non sono affatto polarizzati, soggettivi. Poi ho una polarità esplicita oppure è una polarità ironica, quindi si decide se nel Twitter c'è ironia e nel caso in cui non ci sia ironia devo decidere se ho positivo, negativo o neutro, la negatività, oppure se sono di fronte a un'ironia che è positiva e negativa. Questi come vedete sono dei percettroni che decidono e quindi noi abbiamo preso i dati che la competizione ha messo a disposizione già annotati con l'ironia e con la positività o negatività della sentiment e li abbiamo usati per addestrare questi localmente. Non abbiamo usato un meccanismo di deep learning, per darvi un'idea rappresentiamo le parole o rappresentiamo dei dizionari di sentiment, si chiama Sentix Zoom, un dizionario che ha quattro dimensioni per ogni parola che esprimono quattro dimensioni dell'opinione, del sentiment. Poi abbiamo preso delle varianti, queste sono feature scritte a mano, poi abbiamo preso questi embedding lineari che abbiamo aggiunto e poi abbiamo fatto un tentativo con dei marcatori di ironia che sono anch'essi disponibili e la cosa interessante è che per modellare l'ironia abbiamo per esempio inventato una feature che dice quale parola somiglia meno a tutte le altre, perché l'ironia in genere viene determinata da uno o più termini che sono fuori contesto. Quindi capire che sto usando un'ironia significa intuire qual è quel frammento che non starebbe in quel discorso e che quindi può essere modellato come la similarità tra parole che va sotto o al di sopra di una certa soglia e altre amenità. Allora poi abbiamo fatto un apprendimento con le super vector machine, i risultati della competizione sono stati questi, sulla distinzione tra ironic e non ironic noi siamo arrivati al primo posto, siamo arrivati al secondo o terzi nelle altre. Queste sono le classificazioni tra i non soggettivi e i soggettivi. Osservate che il riconoscimento dei soggettivi è preciso all'85% ed è in grado di coprire circa il 74% dei casi, risultando in una accuratezza media vicino all'80%. Io sono convinto, e questo attraverso un dataset non enorme, perché ovviamente queste sfide ce le costruiamo artigianalmente noi universitari, sono molto complicate ma non usano i 50 milioni di euro che servirebbero per pagare etichettatori che ci danno molti dati. È come dire, sarebbe proprio il balbettio iniziale, il vagito iniziale di uno di quei sistemi di learning che immaginiamo in modo olistico, stanno nell'ecosistema e guardano tutto. Noi abbiamo guardato un pezzettino e secondo me questo numero non viene fatto dagli umani. Cioè una persona che legga per le prime volte Twitter non riuscirebbe in modo molto migliore di questo di decidere perché è veramente complicato anche come task. Quindi questi risultati sono sorprendentemente vicini, già sorprendentemente vicini al nostro atteggiamento. Tanto è vero che in genere vengono usati per raccogliere le informazioni in una prima reportistica e poi vengono analizzati, perché possiamo poi individualmente andarli a leggere, dagli esperti di marketing che tirano fuori la reportistica di BI corrispondenti. L'ultima cosa che volevo farvi vedere è un'applicazione di queste tecniche di apprendimento per la semantica al caso di aziende che fanno altre cose, per esempio l'ingegneria dei sistemi sottomarini di estrazione del petrolio, quindi che non hanno niente a che avvedere con queste cose. Per darvi un'idea a che servono questi? Questi sono dei meccanismi di query completion che in automatico il sistema produce. Sappiate che se noi avessimo voluto scrivere un'ontologia per questi tizi che non sono informatici, sono degli ingegneri che fanno l'hard work di progettare i dispositivi che vanno assemblati nel fondo del mare per poter portare con dei tubi il petrolio alle piattaforme galleggianti, quindi sono persone che vedono gli informatici come gente che fa delle facility per loro ma non sono nemmeno ingegneri. Se avessimo noi voluto scrivere la gergo, la terminologia, l'ontologia di come loro lavorano, noi non saremmo riusciti nemmeno dopo cinque anni di studio a tirar fuori l'ontologia, dovevano essere loro e siccome non sono gli informatici e non gli interessa, gli abbiamo messo a disposizione dopo che il sistema ha preso un motore di query completion. Questo è un esempio con Christmas e queste sono le proposizioni del sistema che sono cose come Christmas, Radio City, Concert, Holidays eccetera. La parola Christmas evoca questo per il sistema. Non ho scelto Christmas a caso perché quando l'utente scrive tree e mette Christmas tree, le due keyword una vicino all'altra, il sistema comincia ad andare subsea tree, tapping hunger, running tool. Allora il Christmas tree è il nomignolo che loro danno all'albero che si impianta sul fondo del mare e che sale su con due strutture da cui poi salgono i tubi e viene fuori una specie di abete che viene impiantato a terra. Questo effetto qua è esattamente quello che avete visto nel grafo delle parole di prima, cioè quando io vincolo la semantica della mia query mi muovo nello spazio e vado nella dimensione che mi serve e questa completion serve a coloro che per esempio sono giovani, sono entrati in azienda e non hanno la possibilità di fare le interrogazioni appropriatamente. In ogni caso potete immaginare che se mi fermassi a Christmas tree il sistema userebbe queste cose per vincolare in una sorta di espansione della query il modo di cercare. Quello che viene fuori è che usando i vettori quello che li rappresentiamo è uno spazio documentale, queste sono le frequently asked questions o se volete la documentazione degli errori di progetto fatti nel passato che loro non riuscivano a usare perché sono scritti da ingegneri diversi e che un motore di ricerca gli consente di unificare. E altre amenità le vediamo qui con l'idea del wiki, cioè gli stiamo etichettando nell'ambito dei requisiti le spiegazioni che riguardano le componenti, i vincoli e le misure necessarie. Io chiuderei qua, c'è un ambito che è quello del banking che anche trattiamo con motori di questo tipo, la cosa interessante, una serie di riflessioni per chiudere, uno, prendiamo atto che viviamo nell'ecosistema dei dati, che se noi siamo parte dei servizi, non siamo ancora dei robot, perché i robot non sono equivalenti a noi, ma viviamo nello stesso ambito ed esprimiamo, se ci pensate bene, adesso questo è una riflessione anche per Amedeo, una volta l'AI, una grossa discussione era tra il paradigma forte e il paradigma debole, per la quale i più grossi detrattori dell'AI hanno sempre detto che la macchina è semplicemente un dispositivo passasimboli e non avrà mai la capacità di sviluppare per esempio il common sense, il senso comune o quella prassi, quella percezione della realtà che sarà sempre simulata. È vero, e questo è vero, cioè in quella fase storica probabilmente ci interessava di riprodurre l'uomo e l'uomo in quanto tale con la sua sensoristica era per una macchina di Turing sostanzialmente irriproducibile. Ma in realtà oggi le nostre manifestazioni vivono nel dominio virtuale, del digitale, cioè noi lasciamo tracce, comprando, spostandoci, che sono le nostre osservazioni del passato, sensazioni del passato, trasformate nell'ambito del digitale. Quindi non ha più nemmeno senso porti il problema del tipo, ma l'intelligenza di una macchina è più o meno simile all'intelligenza di un uomo. Perché in realtà noi per accedere alle informazioni su qualsiasi cosa della realtà siamo mediati dal virtuale e quindi esistono tantissime sfere in cui la macchina e l'uomo hanno esattamente le stesse percezioni riguardo a conoscenze che sono ormai così pervasive che ci hanno cambiato la vita. Quindi mentre prima ci interessava sapere se il nostro peso su una sedia era molto troppo grande, oggi magari la gente non pensa più nemmeno al fatto che sta ingrassando, prendiamo comunità come quella americana, ma pensa solo al fatto di essere connessa a giocare o essere connessa a avere Google. E questo è quello che una macchina sa esattamente come sa lei. Quindi sviluppare la conoscenza in questo ecosistema sarà saper guardare le osservazioni digitali che riguardano uomini, persone, cose e documenti e quindi anche dati strutturali. Spero di avervi convinto che l'apprendimento e il linguaggio sono centrali e che riguardano quel modo di riconvertirsi per starci dentro che riguarda le nostre comunità. L'idea cioè, guarda questa non è male, l'idea è di non ritornare indietro evolutivamente e ovviamente non pagandone le conseguenze. Non so se è riuscito a leggere da qui, ma insomma qui dice che l'elettrificazione di questo palo della luce ha raggiunto anche i luoghi in cui vivono i personaggi come Tarzan, ma queste conseguenze non sono sempre piacevoli.